E benvenuti ragazzi siamo tornati, sono i segni di ragazzi oggi per fare un video diverso dal solito Perché oggi vi farò vedere ragazzi il mio team di Inazuma Eleven Victory Road Sì perché ragazzi voglio fare con voi un team interessante per poi portare Inazuma Eleven Victory Road Per fare tutte le cose, cioè sarà la mia squadra ufficiale E la faremo prima che riesca il gioco Quindi ragazzi direi subito di partire con il modulo Allora ragazzi ci sono tanti moduli anche un po' brutti Tipo il 235, cioè venga il 235 va bene Io opterei per un 433 così che è molto interessante Oppure un aiuto Galactic Foot? No Oppure un modulo così Mi piacerebbe un modulo 451 interessante In questo modo ci sta l'emblema L'emblema ragazzi ci saranno Aiuto Ah quindi posso vedere quali sono Ce ne sono tantissimi regali emblemi Non saprei comunque scegliere chi o quale utilizzare Non va questo coso qua che palle Ok Comunque devo vederle ma la Crono Storm O la Come si chiama Crono Crisis Saranno le più gettonate Forse la Crono Crisis sarà la migliore Poi ragazzi devo vedere tutti gli stem Tutte le divise che posso utilizzare ma Regà Bisogna vedere il gioco alla fine Il coach Ray Dark Regà Ray Dark Cosa c'è meglio di Ray Dark? Sincero Cosa c'è meglio di Ray Dark? Poi regà ovviamente li cambierò Non saranno veramente queste qua Sia l'emblema che magari anche la formazione Che il coach Però i giocatori saranno quelli Iniziamo con il portiere Il portiere potrei scegliere Mark Potrei scegliere sempre i soliti King Potrei sempre scegliere i soliti Dar JP Ma io ragazzi voglio andare in Azumile Vengo Galaxy E prendere Terry Archibald Portiere ragazzi Un giocatore che a me piace veramente Veramente tantissimo E sarà nel mio team di Inazuma Eleven Reload Poi Come primo difensore centrale Volevo portare un giocatore di Inazuma Eleven Orion O Ares Direi di andare sul No Dov'è? Questa E prendere Hacker Reese Raga Giocatore che Inazuma Eleven Orion Mi è piaciuto tantissimo Per le sue tecniche Per le sue mosse Per le sue Per tutto raga Per tutto Hacker Reese Sarà il primo difensore Il secondo difensore Ho un po' di difficoltà a scegliere Perché alla fine raga Non ce ne sono pochi difensori Che si possono scegliere Ma io vorrei andare su Chrono Stones Protocollo Omega Oscar Oscar raga È veramente Veramente Bello E Mi piacerebbe utilizzarlo Un difensore della protocollo Omega Anche perché Non credo che metterò Altri giocatori Della protocollo Omega Anzi forse uno Sì Siamo di tutti qual è Cioè Raga Cioè Il migliore Il migliore Il migliore Della protocollo Andiamo al primo difensore Terzino Allora Sono indeciso Chi mettere Perché Vorrei mettere Arley Però raga Arley È troppo scontato Come terzino Cioè Quindi Come difensore Io direi Di mettere Non voglio mettere Arley Non voglio mettere Arley Direi Di Mettere Ci sto pensando Raga Ci sto davvero Pensando Ok Raga Dopo un Lungo taglietto Ho deciso Che Sì Arley Eh sì Raga Arley 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 Altro terzino Non vorrei mettere Un terzino Proprio Ma un difensore Che mi piace Tantissimo Questo difensore Ragazzi È di Crono Stones E Anzi raga Mi è venuto in mente Chi volevo mettere Al posto di Arley Scusate Eh Intanto mettiamo Quella di Crono Stones Che Eh Come sapete Tutti i ragazzi È Goldi Cioè Raga Goldi 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 E E Altro difensore Che volevo mettere È di Galaxy Inazuma Japan Trina Raga Trina Mi piace Troppo Mi piace Troppo Trina Mi piace Troppo Trina E A distanza Centrocampisti Centro Il primo centrocampista Vorrei mettere Uno di Orion Raga Sperate tutti Che voglio mettere Alla fine Inazuma Japan Ichiyoshi Ichiyoshi Mitsuru O Ikaru Vabbè Mettiamo Mitsuru Alla fine Ichiyoshi Alla fine L'altro Centrocampista Ho molti dubbi Su chi mettere Perché alla fine Raga Non voglio fare Cioè Ho messo Due personaggi Di Crono Stones Due personaggi Di Galaxy E due personaggi Di Orion Raga Della prima serie Non ho messo niente Quindi vorrei mettere Qualcosa Delle prime tre serie Raga Io direi di mettere Genesis Bellatrix Bellatrix Raga È veramente Stupenda E Ci sta Ci sta Ci sta Nel mio team Ci sta Diciamo Primo attaccante O facciamo Trequartista Raga Ma al trequartista Alla fine Me lo dovete far mettere Inazuma Eleven Ares E andiamo Nella Nella mare lunare Heat Trequartista Ora I tre attaccanti Diciamo che questi qua Sono un'aggiunta All'attacco Che Che facciamo prima Primo attaccante Raga È La punta Il mio giocatore Preferito Raga Devo per forza Metterlo Inazuma Eleven Inazuma Eleven Raymond Anzi No Cavalieri Non mi ricordo Come si chiamano Victor Blade Victor Blade Ragazzi Il mio giocatore preferito Devo metterlo per forza E Sì Devo metterlo per forza Secondo Attaccante Raga Un'altra attaccante Che a me piace Tantissimo Eh Raga Devo metterlo In Inazuma Eleven Vengo con una stones Protocollo mega numero 2 Beta Beta Raga È beta Beta È beta E poi L'ultimo attaccante Vorrei mettere Uno Della serie Delle prime tre serie Perché raga Non ho visto alla fine nessuno Quindi Direi di Mettere qualcuno Però non so Prechi Mettere Anzi Ogre Ci sarebbe Lancer Ma Lancer a me Non piace Tantissimo Non saprei Proprio Chi mettere In realtà Anzi Ci ho pensato Giulia Cuto Però Non mi fa Molto impazzire Potrei mettere Potrei mettere Potrei mettere Raga Aru Endo Eh eh Vi ho trollato Raga Aruendo Ragazzi Giocatore Mi piace Troppissimo Troppissimo Della prima volta Che l'ho visto Raga Mi piace Tantissimo Aruendo E sarà nel mio team Questo sarà il mio team Iniziale Della squadra È un po' un team Non dico esotico Perché alla fine Raga ci sono giocatori Abbastanza Conosciuti E forti Però Raga Sono i giocatori Che a me piacciono Quindi Direi proprio Che ci sto Primo portiere Anzi Primo sostituto È un portiere Non posso Non posso non mettere Non posso non mettere Lui che non mi ricordo Come si chiama in giapponese Posso metterlo così Non me lo fa vedere Vabbè Lui Che non mi ricordo Come si chiama Però ragazzi Dai Bellissimo Bellissimo Primo sostituto Difensore E Raga Non saprei Chi mettere In realtà I difensori Faccio abbastanza fatica Perché non c'è Dalla fine Ci sono i difensori Che mi piacciono tantissimo Però Direi Che Posso Mettere Eh Non lo saprei Non Saprei Anzi Archer 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 mi piace Archer mi piace Come giocatore Molto 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 Centrocampista Raga È già da qua È già qua Caleb Stonewall Caleb Stonewall È anche il giocatore Che mi troppo piace Troppo 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 Un altro Centrocampista Direi Raga Di mettere Non lo so Magari uno Del Galaxy Che non ho messo Tanti giocatori Di Galaxy Falamorbius E se avete già chi metto Rondula Rondula È Stupenda Anzi Non rondula Cosa dico Sì sì Rondula 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 Mi piace Troppissimo Rondula Troppo 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 E come ultimo Attaccante Raga Raga Non possono Non posso Non posso Non metterlo Non posso Non metterlo Non posso Zanark Avalovic Non posso Non Mettere Zanark Avalovic Ho mancato Tanti giocatori Potrebbero essere Interessanti Come Show Una Raga Come Bylong Come Come Cosa Come Afrodite Però Raga Questa è la squadra Che voglio Fare Sui Dottomale Vittorio Farò Molte Molte Più Squadre Non sarà L'unica Squadra Che farò Magari La squadra Che maxerò Che magari Allenerò Di più Magari Boh Ci farò Le più Amiche Cioè La maggior Parte Delle Amiche La farò Con Questa Squadra Qua Però Raga A me Questi Giocatori Piacciono Quindi Alla fine Sono abbastanza Soddisfatto Della mia Squadra Si Sono abbastanza Soddisfatto In realtà Potrei cambiare Aru Però Aru Alla fine Se è giocabile Dall'inizio Lo prenderò Subito E la metterò In squadra Se Non è giocabile Dall'inizio Non metterò Aru Ma metterò Un altro Giocatore Che magari Sarà Bylong Che lo volevo Mettere Oppure Lo sceglierò Al momento Perché alla fine Secondo me I giocatori Non sono I co-tabili Dall'inizio Ma bisogna Aspettare Le prime amichevoli Anche un po' Più avanti Delle prime amichevoli Per sbloccare Tutti I giocatori Che voglio In questa squadra Quindi all'inizio La squadra Sarà un po' Fatta col Col culo Però Raga Team name Rex 79 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Questa è la mia Squadra Spero che vi sia piaciuta Spero che vi piaccia Come squadra Assieme un'immagine Ok Eccola qui Vabbè Poi le salverò Anzi ci farò lo screen Anzi lo faccio direttamente Lo screen Perfetto Spero che questa Squadra Vi sia piaciuta Fate la vostra squadra ragazzi E Scrivete nei miei commenti La vostra squadra E per questo video Questo è tutto ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti